Buongiorno, siamo tornati sulla costa della Normandia e oggi ci medicheremo completamente alle spiagge dello sbarco ma ha iniziato a diluviare e quindi ora vediamo cosa riusciamo a vedere. Per coinvolgere i bambini nella visita di questi luoghi così pieni di storia e dare loro un quadro sufficientemente completo abbiamo deciso di vedere almeno una spiaggia, almeno un museo, almeno un cimitero americano e uno tedesco, almeno un sito di postazioni difensive e almeno una cittadina colpita dai bombardamenti. Il primo sito che raggiungiamo sono le batterie di Long Sur Mer. Questi 4 bunker, ancora perfettamente conservati, si affacciano sulla porzione di spiaggia compresa tra Omaha Beach e Gold Beach in una posizione strategica per affrontare lo sbarco sia da ovest che da est. I cannoni, gli unici ancora originali dell'epoca, potevano raggiungere anche i 20 km di distanza. Il sito è visitabile liberamente, si può entrare all'interno dei bunker e spingersi fino al bordo della scogliera per imedesimarsi in quello che successe durante i giorni dello sbarco. Affacciato su Omaha Beach, si trova uno dei siti più visitati della Normandia, il cimitero americano di Colville-sur-Mer. Ogni anno ospita un milione di visitatori che vengono a rendere omaggio ai 9387 soldati americani qui sepolti. Le quasi 10.000 croci bianche, perfettamente allineate, si trovano letteralmente in territorio americano. Il cimitero, infatti, viene gestito dal governo statunitense e gode delle leggi americane. La nostra giornata termina a Omaha Beach, che nonostante ora sia un'immensa spiaggia che durante la bassa marea regala migliaia di conchiglie, è stata il luogo dove si è consumata la battaglia più feroce. Si dice, infatti, che il mare fosse diventato completamente rosso a causa del tanto sangue. buongiorno, stanotte abbiamo dormito lungomare qui a Omaha Beach, notte tranquillissima, zero traffico, bellissimo perché ieri sera avevamo il mare attaccato al camper, c'era l'alta marea e sentivamo il rumore delle onde, invece stamattina il mare non si sentiva più perché la marea si era abbassata e quindi il mare era lontanissimo. E ora dove andiamo? Ora andiamo a vedere il museo, no il museo, il monumento di Omaha Beach e poi proseguiamo verso il cimitero tedesco. Questo monumento dedicato ai caduti americani è stato eretto in occasione del sessantesimo anniversario dello sbarco. Si chiama I Coraggiosi e rappresenta la libertà che svetta in mezzo alle ali della fraternità e della speranza. Raggiungiamo poi il cimitero tedesco di Lacanbe che nonostante sia molto più ridotto negli spazi rispetto a quello americano, ospita più del doppio delle tombe, oltre 21.000. La tappa successiva è Pointe du Hoc sul promontorio che divide Omaha Beach e Utah Beach e che ha rappresentato durante i giorni dello sbarco uno dei punti più difficili da espugnare. Il sito è visitabile in autonomia seguendo un percorso obbligato, ma purtroppo rispetto alle nostre visite precedenti, ormai diversi anni fa, l'abbiamo trovato un po' trascurato. I crateri creati dalle bombe infatti sono ormai coperti di erba alta e quasi si fa fatica a notarne la profondità. Arriviamo a Utah Beach, la più occidentale delle cinque spiagge coinvolte nello sbarco che si trova già nella penisola del Cotenten. Proprio sulla spiaggia, appena fuori dal museo, si trova la ricostruzione di una Higgins boat di dimensioni reali, riproduzione fedele di una delle 23.000 imbarcazioni che gli alleati usavano lungo le coste della Normandia per lo sbarco di mezzi e soldati. Passiamo la serata in uno spot tranquillo proprio sulla spiaggia e ci addormentiamo cullati dal rumore della marea. Domani si va a Sammer Eglise. Sammer Eglise fu il primo paese a venire liberato dagli alleati durante l'operazione Overlord, quando i paracaduttisti iniziarono a piovere dal cielo nella notte tra il 5 e il 6 giugno del 45. Accanto alla chiesa con il paracaduttista appeso al campanile, c'è l'Airborn Museum, che noi abbiamo scelto perché è ben studiato anche per i bambini. La visita si snoda attraverso scenari diversi e ricostruzioni, tra cui un vero aereo militare su cui si può salire e rivivere le sensazioni di essere paracaduttisti nella fase del lancio. L'intera visita è accompagnata da un tablet in diverse lingue, compreso l'italiano, che fornisce informazioni aggiuntive, video e foto originali, e su cui si possono fare attività interattive per coinvolgere i bambini tra una sala e l'altra. Ora il nostro viaggio prosegue lungo le coste della penisola del Cotenten, ma questo ve lo faremo vedere nel prossimo video.